ultime conserve di broccoli in olio extraveggio d'oliva e olio di girasole sono conserve molto molto interessanti che si possono sfruttare a meno per un anno ecco tenerle in congelatore secondo me è meno intelligente le verdure oli manci subito oppure vanno messe in questo modo c'è dura che avete visto nel mio video che vi ho pubblicato questa è la seconda partita che ho fatto sono una vendina di vasi